Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, coda in uscita a Firenze Sud, provenendo da Bologna, per traffico intenso. Sulla Firenze Mare ci sono 6 km di coda per un incidente tra Prato Ovest e Prato Est, verso Firenze. Per traffico, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peredolo, ancora una volta verso il capoluogo. In Fipilico, dei attratti per gli spostamenti mattutini tra la Strassigna e Firenze Scandici, verso Firenze. In chiusura per il traffico cittadino, ricordiamo che nell'ambito dei cantieri per la tramvia, sono in corso lavori di asfaltatura in piazza Viesi. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!